ciao a tutti anime bentornati qui sul mio canale su quinta dimensione letture il canale di crescita personale e spirituale che vi sta aiutando e vi mette tanti contenuti di crescita e sono contenta dei vostri feedback di quelli che lavorano veramente perché sapete che ci tengo è un canale che affronta in modo molto serio e soprattutto crede in quello che dice io vi ringrazio vi rinnovo l'affetto anche da parte mia grazie a tutti quanti veramente anche in privata quelli che manifestano il loro affetto e sono molto contenta vi invito a iscrivervi al canale attivare la campanellina cliccando su tutte grazie mille allora oggi vi propongo un momento tra noi al di là dei responsi e dell'ansia che può creare un risponso mi è arrivata questa molto forte da fare con voi oggi mi è arrivato proprio acceleriamo mi è arrivato questo quindi oggi vi propongo un diciamo un decreto per accelerare proprio questa ascensione questo momento ascensionale storico mai avuto in questa insomma dimensione questi aiuti che abbiamo adesso sono inimmaginabili proprio grandissimi abbiamo portali aperti in continuazione abbiamo una miriade una schiera di esseri di luce che vengono in nostro aiuto come mai prima d'ora quindi oggi facciamo un decreto che viene vi faccio vedere dal libro dei sette raggi e cinque raggi occulti dove andiamo proprio a ampliare a proprio far crescere e a dare proprio l'input a questa cosa e l'ho chiamato proprio un momento tra noi perché vi metto anche una frequenza a 528 hertz con i diapason che creano proprio l'atmosfera giusta ci aiutano nella guarigione sapete 528 sono particolarmente utili nella guarigione proprio del dna che è una cosa che in questo momento abbiamo veramente molto toccata dall'alto cioè proprio diciamo la modifica proprio l'accelerazione e diciamo della dell'aumento di energia della modifica proprio del nostro dna 12 eliche quindi comunque faremo anche vi metto anche qualche tocco di questo che si usa praticamente chi lo vuole acquistare lo trova su internet di diverse diciamo hertz ci sono questa 528 mi piace in modo particolare ed lo potete usare in forma privata negli ambienti di casa basta fare diciamo il botto adesso vi faccio vedere come si fa per ricreare proprio diciamo un momento di voi di meditazione aiuta aiuta molto a essere centrati chi ha particolare difficoltà nel mettersi in meditazione magari ci prova non riesce a focalizzare ecco è uno strumento che vi può aiutare a entrare più in profondità nei voi stessi nella vostra ricerca personale proprio e spirituale e crea un'atmosfera annulla diciamo anche le vibrazioni negative che ci sono attorno in quel momento quindi potete prenderlo passare per tutte le stanze della casa e fare il gong diciamo come fosse tac così adesso vi faccio sentire com'è spero che l'audio si senta bene e poi metteremo un messaggino dei miei messaggi divini canalizzati da me del mio mazzo che sono qua sopra metterò quattro messaggi puoi scegliere già un cuoricino che vedi il primo lo faccio al cuoricino rosso il secondo al cuoricino bianco il terzo al cuoricino azzurro chiaro il quarto al cuoricino giallo uno rosso due bianco tre azzurro quattro giallo allora quindi questo adesso vi chiedo un attimo di respirazione un attimo di concentrazione apro con il nostro diapason creiamo proprio l'atmosfera facciamo qualche respiro perché facciamo anche cose pratiche su questo canale lo sapete poi leggiamo il decreto insieme e ripeto è molto utile perché ok la crescita spirituale va bene la crescita personale ma questa cosa cerchiamo di farla arrivare anche a più collettivamente possibile più persone possibile anche a livello di collettivo che troverà questo video ci sarà un motivo per cui lo sta ascoltando cerchiamo di divulgare certamente non possiamo cambiare il destino tra virgolette di qualcuno perché se ognuno ha la sua strada da fare è ovvio non possiamo noi con no forzare l'evoluzione di qualcuno non possiamo fare nulla in quel caso possiamo dare l'input però la persona deve lavorare da sola concentriamoci un attimo facciamo qualche bel respiro fate insieme a me questo bel momento di concentrazione tutto per noi ed emaniamo quanta più positività quanta più vibrazione positiva a te che ascolti e che si rifletta proprio nel collettivo e facciamo questo suono vi faccio vedere il diapason con suo chiamiamolo martelletto e poi facciamo il decreto iniziamo con qualche respiro e poi facciamo il decreto iniziamo con qualche respiro e poi facciamo il decreto iniziamo con qualche respiro e andiamo con il decreto è molto semplice l'uso del diapason come vedete basta con il martelletto fare un colpo deciso se volete sentite come vibra come si sposta oppure lo si lascia fermo e come lo toccate si ferma allora andiamo con il decreto che porta il nome esatto di ricordo il libro delle edizioni metafisica italia decreto per l'accelerazione dell'instaurazione della nuova era delle libertà sulla terra che significa questo significa che andiamo a dare una spinta in più al collettivo quindi spingiamo perché si manifesti finalmente questa ascensione questa coscienza globale più di quinta dimensione e oltre aiutiamo proprio il pianeta ad aumentare la vibrazione quindi possiamo recitare insieme quanto segue sia per noi stessi per la nostra famiglia ma per tutti perché l'intento collettivo è anche quello un buon punteggio di karma parliamoci chiaro perché sì l'evoluzione personale e spirituale ma vale anche la tua intenzione un'intenzione pure di cuore richiesta anche dagli esseri di luce è anche l'intenzione per un collettivo cioè non è che voglio che la terra sia scesa perché sto bene io voglio che la terra sia scesa perché saremo bene tutti ecco qui c'è differenza di intenzione meglio la seconda ok perché tutti stiano bene e anche aggiungo perché si risveglino più persone possibili più persone possibili nel nome della divina presenza io sono chiediamo alla gerarchia spirituale di Shambhala e alle gerarchie cosmiche di intensificare la scarica di luce nel cuore di tutti i discepoli dei maestri ascesi e studenti spirituali incarnati sul pianeta adesso affinché si sveglino ora alla loro missione divina per instaurare definitivamente la nuova era della libertà e dell'amore sul pianeta terra grazie padre e madre perché è già così eccoci qua adesso sei scelto già un cuoricino vado con il mischiare gli oracoli e vediamo il messaggio adesso in questo momento così particolare che abbiamo fatto questa richiesta collettiva e che si sveglino più persone possibili perché più siamo meglio è metto nella descrizione del video anche tutti i decreti vi metto il link a un video andate a vedere la descrizione i decreti per proprio l'instaurazione anche del governo divino andate a vedere sotto vi scrivo proprio video che ho consigliato su questo video insomma adesso dopo vedo io come fare la descrizione dove ci sono proprio tutti i decreti che ho fatto in un video verso ottobre mi raccomando andate a vedere anche quello perché ci sono le richieste proprio al maestro Cesel Moria per il governo divino a San Germain all'Arcangelo Michele è molto bello andate a vedere sotto nella descrizione se volete fare quella è un'ottima integrazione di un video che ho già fatto e integrato molto bene con questo vediamo adesso vediamo un po' per il cuoricino rosso il messaggio di chi ha scelto il rosso qual è messaggio per il rosso qui e ora rosso messaggio per il bianco cuoricino bianco qui e ora messaggio per l'azzurro chiaro cuoricino azzurro chiaro qui e ora qual è eccolo qui per il giallo cuoricino giallo qual è qui e ora il messaggio eccoci qua allora partiamo con il numero 1 il cuoricino rosso dei messaggi di vino oracolo vediamo qual è il messaggio per te cuoricino rosso leggiamo cosa vuole dirti eh la tua ascensione alla quinta dimensione è iniziata scusate ma mi viene da sorridere perché stiamo parlando proprio di quello benissimo 719 sono dei numeri particolarmente affini o fortunati per te aumento di energia purificazione delle cellule quindi qui già ci sei hai una conferma lettura 1 cuoricino rosso che la tua ascensione c'è stai iniziando è iniziata o da poco o da tanto non importa ma sei dentro anche tu quindi probabilmente sarai tra quelle persone che stanno recependo dei segnali fisici psicologici no anche a livello corporeo perché si sente potresti avere anche dei sintomi fisici tante volte anche poco piacevoli devo dire perché l'ascensione comporta un aumento di immagazzinaggio di codici gamma di quinta dimensione altissimi che stiamo ricevendo in una quantità proprio mai vista finora prima d'ora e quindi potresti anche sentirti molto stanca molto stanco affaticata anche se hai dormito che ne so 12 ore ma ti alzi peggio di prima insomma questa è la sensazione un po' di chi sta immagazzinando tanta tanta energia di luce perché prima non eravamo abituati il nostro corpo in terza dimensione è molto pesante soggetto a dolori molto fragile e quindi adesso abbiamo tutti questi codici di luce ed è difficile per un corpo di terza dimensione immagazzinare tutto ciò quindi ci vuole comunque il suo tempo non ti preoccupare però la bella conferma cuoricino rosso che hai è che la tua ascensione nella quinta dimensione è iniziata quindi molto bene sei proprio dentro quindi questo video è proprio per te lo devi fare questo video punto chi è già nella fase ascensionale deve contribuire va bene anche agli altri perché più siamo e meglio è perché dobbiamo andare incontro come dice San Germain proprio la nuova era di questa nuova terra che verrà la nuova Lemuria quindi tutti sono chiamati in causa lettura 2 cuoricino bianco vediamo per te il messaggio gli esseri di luce e i maestri vi spingono a mantenere fiducia nell'universo 23 23 23 32 potrebbero essere dei numeri fortunati per te orari sincronici che vedi spesso magari nell'orologio eccetera lavora su di te con fiducia quindi qua ci stai arrivando ci stai andando cuoricino bianco gli esseri di luce e i maestri ascesi ti stanno dando proprio questo messaggio fiducia fiducia qua su fiducia qua giù quindi qui ti dice lavorare su di te quindi benissimo potresti fare per esempio qua mi arriva per il cuoricino bianco un messaggio sette raggi per te mi è arrivato cuoricino bianco e niente ti devi dare da fare qua mi arriva sette raggi per chi ha scelto la seconda lettura bene se li stai già facendo quindi vuol dire che va bene se li stai già facendo e mi arriva in sincronicità per te questo se non sai neanche cosa sono guarda la playlist proprio dei sette raggi e cinque raggi occulti su questo canale perché troverai proprio tanto materiale i sette raggi un raggio al giorno di un colore specifico con abbinate note tonali pietre aromi e quant'altro decreti per ogni raggio eccetera eccetera quindi qua mi viene molto questo per te devi ancora lavorare comunque gli esseri di luce maestri te lo stanno proprio chiedendo vi spingono ti spingono e sotto dice lavora su di te con fiducia quindi bel messaggio anche per te cuoricino bianco proseguiamo con il cuoricino azzurro chiaro lettura 3 chi ha scelto l'azzurro chiaro cosa c'è di messaggio io sono luce io sono amore io sono verità io sono numero 7 eccolo qua l'ho nominato prima maestro acceso san germen ti invita a recitare spesso questo potente mantra quindi aggiungiamo quanto sono contenta quando vedo lui che ci arriva nei miei video e arriva per me e arriva per voi io sono luce io sono amore io sono verità io sono maestro acceso san germen che ci sta lavorando in particolare eccolo qua che viene a a darti una conferma ci sono va bene io sono ci sono è bellissimo magari l'hai fatto dieci minuti fa che ne so un decreto di fiamma viola eh o l'io sono ed eccoci qua che esce fuori lui perché qui succede anche di tutto queste cose qua quindi benissimo cuoricino azzurro continua così lo giro a tutti perché c'è chi sente tutte le stese se stai ascoltando e ti è arrivato anche a te e non hai passato oltre magari non hai saltato la stesa e ti è arrivato anche se non hai scelto l'azzurro fallo a chi arriva questo è un video molto più collettivo degli altri proprio per tutti quindi qua se è arrivato a te anche non hai scelto la terza stesa colore azzurro chiaro non importa fallo perché è un mantra molto potente che ci è stato dato più ultimamente nuovissimo questo mantra io sono luce io sono amore io sono verità io sono dà una potenza incredibile corto ma efficace benissimo lettura 3 numero 7 per te che è come il settimo raggio viola appunto benissimo andiamo avanti cuoricino giallo lettura numero 4 il quarto cuoricino se non sai che scelta o decisione prendere raccogliti in te tramite la meditazione 16 16 sono i numeri per te o anche 1 e 6 sgombra la mente e guardati dentro benissimo qua c'è ancora del lavoro da fare e ti invitano gli esseri di luce a raccoglierti in te tramite la meditazione quindi fallo a questa cosa falla la meditazione è la porta di qualsiasi ascesa di qualsiasi comprensione di se stessi e per una crescita per una chiarezza per una pace per trovare una certa pace va bene qui ti dice proprio se c'è l'ascolto qualcuno ti confuso perché inizia con se non sai che scelta o decisione prendere quindi si presume che chi ha scelto la 4 magari sia in un momento magari un po' di confusione di indecisione che non importa non importa perché succede quindi non è che sei un'anima inferiore a un'altra se chi ascolta in questo momento è così ti dice proprio fai meditazione e su questo canale ne trovi di contenuti meditazione non è solo lo stare fermi lì posizione fiore di loto no cioè la meditazione sono dei momenti proprio personali di raccoglimento con se stessi non è che se sbagli la posizione non stai seduta in quel modo non stai facendo meditazione la meditazione può essere anche non so appoggiata con la schiena non so sull'albero in un parco potrebbe essere sul divano di casa tua nella posizione in cui tu ti senti comoda o comodo potrebbe essere prima di andare a dormire magari che hai quel momento proprio che ti senti veramente bene connessa connesso perché riesci meglio a farlo in quell'ora lì quindi ognuno trovi il suo spazio non è che la meditazione ci chiede per forza di essere come i monaci tibetani che non si muovono insomma di un millimetro per ore ok per arrivare a quei livelli ci vogliono 30 anni veramente come loro cioè devono fare solo quello nella vita nostra occidentale raggiungere quei livelli là è abbastanza difficile va bene quindi cerchiamo di trovare bene pensiamo per noi a come va bene per noi non cerchiamo di raggiungere vette che sono quasi praticamente impossibili cerchiamo di arrivare al massimo certo che sì però non pretendiamo l'impossibile da noi stessi perché poi da energia di luce andiamo a passare allo stress perché vogliamo troppo e vediamo che è difficile quindi cerchiamo di accontentarci di ringraziare per quello che abbiamo in quel momento va bene per quello che siamo riusciti a fare fino ad oggi va bene care anime questi erano i messaggi per voi oggi mi raccomando il decreto cerchiamo di chiedere proprio che più gente possibile segua questo percorso chi ancora non lo sta capendo che lo capisca qualcuno non capiranno mai sia chiaro che ci sarà una parte di popolo della terra che non è per sta vita qua che ce la farà non importa l'importante è che faremo tante persone che riusciremo magari a dare un input anche a chi non sa niente di tutto questo io vi ringrazio vi saluto vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina mettere like al video se vi è piaciuto e vi saluto con qualche colpetto dei nostri 528 hertz per voi grazie mille vi aspetto presto qui su quinta dimensione letture per un nuovo video interattivo con me ciao a tutti grazie grazie